Musica Quelli che vedete qui sono i nostri veicoli autonomi sottomerini di classe U-Tracker un veicolo autonomi sottomerini che verranno utilizzati nell'ambito del programma Tetida un programma scientifico finanziato dall'Unione Europea per lo sviluppo di tecnologie per la protezione e salvaguardia di relitti di interesse archeologico i flussi di immagini, dati da sonare e telecamera provenienti da questi veicoli verranno integrati all'interno di speciali software per la ricostruzione tridimensionale interattiva del sito ai fini di studio e protezione dagli scienziati e dagli esperti del settore Musica 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 Musica